Sono 230 su 280 tra Pescara e Provincia i medici di famiglia che hanno aderito alla campagna vaccinale mettendo a disposizione della ASL la propria professionalità per l'immunizzazione a domicilio dei pazienti ultraottantenni e fragili, impossibilitati a muoversi secondo un criterio di priorità stabilito dalla ASL, tra quanti hanno manifestato il proprio interesse alla vaccinazione iscrivendosi alla piattaforma regionale. La distribuzione dei medicinali per l'immunoprofilassi è iniziata già questa mattina nel piazzale antistante il dipartimento di igiene, epidemiologia e sanità pubblica del presidio ospedaliero di via Paolini a Pescara e andrà avanti fino a sabato finché non saranno consegnati ai medici di base tutti i 110 flaconi molti dose per un totale di 1100 vaccini moderna attualmente disponibili che dovranno essere conservati a una temperatura compresa tra i 2 e gli 8 gradi. Al nostro microfono il dottor Massimo Calisi della FISMU, Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti. I medici sono stati divisi in ordine alfabetico quindi a gruppi per evitare assembramenti. Oggi martedì 30 marzo il primo gruppo a seguire gli altri gruppi ma tutti riceveranno un flacone del vaccino moderna. Ci rivolgeremo quindi ai pazienti più fragili degli ultraottantenni, addirittura molti ultra novantenni, alcuni centenari. I pazienti che non sono riusciti a raggiungere il punto vaccinale appunto perché sono pazienti non trasportabili facilmente con una notevole fragilità. Comunque l'elenco ci è stato fornito dalla ASR dei pazienti che pur manifestando la volontà di vaccinarsi non sono potuti andare nei punti vaccinali. Dottoressa Delina Stella, direttrice responsabile dell'unità operativa complessa di igiene dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Le dosi disponibili in questo momento sono 1100 dosi, sono quelle che sono già disponibili, 1100 dosi di Moderna, fatte salve eventuali ulteriori arrivi in settimane che saranno messe a disposizione. Quando vengono ovviamente tassativamente con un sistema per mantenere la catena del freddo, quindi un piccolo frigorifero, una borsa a frigo. Insieme al flaconcino di vaccino consegnate anche altre cose, qual è il kit? Praticamente le siringhe necessarie per la somministrazione. E quindi un invito a tutti a vaccinarsi, ad aspettare il proprio turno. Il vaccino ci sarà per tutti. Noi medici di medicina generale ci siamo, siamo già oggi in questa fase così delicata per la vaccinazione a domicilio contro il covid. Sconfiggeremo presto questa pandemia, tutti dobbiamo avere fiducia nell'azione delle autorità sanitarie.